e parliamo di un capitolo particolare, la fotogrammetria. Un'altra grande esperienza nel campo della fotointerpretazione che l'aeronautica ha vissuto negli anni 70, diciamo finire degli anni 70 e soprattutto 80 e 90 è stata la progettazione e lo sviluppo di un programma denominato DLMS, Data Land Mass System. Di cosa si tratta? Innanzitutto una premessa legata all'entrata in linea del sistema d'arma Tornado nel periodo a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per la prima volta nella storia del volo cambia il concetto di semplice velivolo per far posto a quello di sistema, sistema d'arma, non più limitato alla sola cellula volante ma comprensivo di tutto quel contesto di uomini e mezzi che contribuiscono in un tutto unico allo svolgimento della missione del sistema d'arma appunto. Tra queste componenti spicca una banca dati digitale del territorio che aveva il duplice scopo, ah tuttora perché il tornado è ancora in linea, che ha il duplice scopo di asservire alla radar predizione ed alla simulazione. Che cos'è la radar predizione? Come si può intuire dal termine è una proiezione a schermo del velivolo di quello che è il terreno e gli oggetti presenti di esso, antistante proprio la rotta di volo, immediatamente antistante la rotta di volo. Tale funzione è dedicata soprattutto al volo a bassissima quota. La stessa banca dati inoltre viene utilizzata all'interno del simulatore di volo dello stesso tornado. A che cosa serve? Serve a fornire uno scenario non verosimile, stile videogioco, ma addirittura specchio della realtà oggettiva del territorio, dove poi l'allievo pilota, colui che si sta istruendo al simulatore, sarà in grado o di addestrarsi o di condurre operazioni di volo reale. Per far fronte a questo programma così innovativo e specifico, l'aeronautica si dotò di un proprio ente cartografico, prima non esisteva, il CIGA, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, che infatti fu costituito alla fine degli anni 70, inizialmente presso lo Stato Maggiore e poi subito dopo con sede in pratica di mare. Io chiamo affettosamente il DLMS, questo progetto, il nonno del GIS. Laddove per GIS intendiamo Geographic Information System, del GIS, che sicuramente la maggior parte degli ascoltatori conosceranno, parleremo un po' più approfonditamente più avanti. Per ora diciamo che il GIS può essere definito come un archivio digitale di informazioni tutte geolocalizzate, cioè in possesso di coordinate geografiche, informazioni grafiche e descrittive che rappresentano il territorio, il tutto organizzato in un database relazionale. Questo programma, questo DLMS, che bisogna ricordare comunque nasce con la tecnologia informatica degli anni 70, era costituito a sua volta di due archivi, uno relativo agli oggetti presenti sul terreno ed uno relativo all'altimetria del terreno stesso. Il tutto fu prodotto per l'intero territorio nazionale ad una scala di riferimento di 1 a 50.000. L'archivio degli oggetti, delle features presenti sul terreno, è per l'appunto la rappresentazione di tutti gli oggetti naturali ed antropomorfi, cioè creati dall'uomo, presenti sul terreno, selezionati secondo determinate caratteristiche per tipologia, dimensione, materiale di costruzione, eccetera. Il tutto indicato nelle specifiche di selezione del progetto. Il fotointerprete che veniva formato alla Scuola di Aerooperazione attraverso i corsi di fotointerprete per analista di immagini geotopografiche, FAIG per ufficiali, e aiuto fotointerprete a FAIG per sottufficiali, analizzava con un potente stereoscopio Bosch-Lomb in stereoscopia le fotografie aeree. Fra l'altro qui vediamo sotto lo stereoscopio anche la barra di parallasse che serviva per misurare le altezze. Le fotografie aeree erano realizzate dall'allora 303 esimo gruppo di volo autonomo coubicato sempre sull'aeroporto di Guidonia. In seguito il gruppo fu riconfigurato all'interno del 71 esimo gruppo del 14 esimo stormo di pratica di mare. Le foto nel classico formato aerofotogrammetrico 24 cm x 24 cm erano riprese con camere Wield RC10 all'inizio e RC20 successivamente alloggiate all'interno del velivolo P166DL3 in configurazione APH e Photogrammetric. Sulle foto l'analista selezionava gli oggetti con pennarelli vetrografici utilizzando un codice, quindi si scriveva fisicamente sulle foto. Questi segni grafici utilizzati erano quelli tipici che costituiscono le primitive in un disegno in formato vettoriale, quindi punti, linee e poligoni. Contemporaneamente compilava a penna su una scheda in cartoncino i campi che rappresentavano gli attributi degli oggetti. La posizione degli oggetti stessi veniva poi trasferita dalle foto a dei fogli trasparenti poggiati su cartografia IGM scala 1 a 25.000 attraverso un processo di fotorestituzione, utilizzando degli strumenti chiamati Stereo Zoom Transfer Scope, che vediamo in basso nella slide, in un modo meccanico-analogico. Praticamente attraverso una velocissima alternanza di luci che illuminavano le foto oppure la cartografia, avveniva una sovrapposizione nella mente e negli occhi del riportatore sia delle fotografie che della carta, appunto, e gli elementi analizzati venivano così riportati in scala sulla carta stessa. Tali elementi venivano quindi finalmente digitalizzati attraverso l'uso di appoliti tavoli interfacciati al computer e contestualmente, insieme agli elementi grafici, venivano inseriti sul computer gli attributi compilati sulla scheda. La descrizione della parte altimetrica è molto più veloce. Dirò semplicemente che le curve di livello presenti sulla cartografia IGM alla scala 1 a 25.000 venivano evidenziate con pennarelli a colori e digitalizzate, ripassate quindi con la tavoletta grafica una per una attraverso apposito tavolo e mouse dedicato. Capite ora perché lo chiamo il nonno del GIS? Perché è stato un vero e proprio GIS costruito con la tecnologia mezza digitale, mezza analogica degli anni 70-80. Intere generazioni di ufficiali e sotto ufficiali si sono formate presso la scuola di aerocuperazione e poi hanno operato presso il CIGA analizzando decine di migliaia di fotografie, riportandone i dati su cartografia 1 a 25.000 ed immettendo i dati bit dopo bit su server. Il valore aggiunto di questo lavoro epico è stato che quegli analisti sono stati formati già con un approccio ancorché primordiale all'analisi aerofotografica finalizzata al popolamento di un ambiente GIS con le sue regole e le sue specifiche. Qui vediamo un esempio una fotografia aerea formato 24x24 ripresa dal velivolo P166 DL3 con camera Wield RC10. Vediamo la parte del sedimento dell'aeroporto di Guidonia e l'ingrandimento della scuola di aerocooperazione e del piazzale Bandiera. E andiamo adesso a vedere gli anni che hanno portato il passaggio dalla pellicola al digitale dal velivolo al satellite. Dagli anni 90 in poi adeguandosi ai mutati scenari geopolitici ma soprattutto alla rivoluzione informatica applicata alla vita di tutti i giorni che ha conseguentemente sconvolto anche il mondo del telerilevamento e dell'informazione geospaziale, la scuola ha modificato i propri programmi didattici e gli strumenti attraverso i quali i corsi sono stati offerti ai frequentatori. Lo stereoscopio analogico, che riteniamo ancora utile presentare comunque agli studenti anche oggi e non solo per ragioni storico-affettive, è stato affiancato e superato dalle stazioni di lavoro digitali. La pellicola e la stampa su carta hanno lasciato il posto all'immagine digitale in formato raster. La semplice analisi visuale si è arricchita di algoritmi che permettono l'estrazione di informazioni dall'immagine digitale impensabili se riferite a quelle analogiche. Senza voler fare un escursus storico dell'evoluzione tecnologica nel settore che ha ancora tradistinto l'ultimo trentennio, concentrerò l'attenzione su quei mutamenti che hanno coinvolto più da vicino il mondo della difesa e della scuola. Dal punto di vista delle piattaforme utilizzate, il satellite ha prepotentemente guadagnato terreno sul velivolo, grazie anche allo sviluppo di sensori in grado di garantire una risoluzione geometrica, cioè una capacità di dettaglio a terra, che alla fine è sempre una delle caratteristiche più apprezzate in un sensore e nelle sue immagini. Una risoluzione, dicevamo, sempre più simile a quella aerofotografica. Il satellite spostava poi il concetto di analisi dal campo squisitamente tattico a quello strategico. Non ci sono più limitazioni legate agli spazi aerei da sorvolare, ai territori su cui mandare un velivolo. Lo spazio permette l'accesso ad ogni angolo del mondo. Certo, le tempistiche sono per l'appunto quelle strategiche. Se mi serve l'immagine ora ed il satellite passerà sull'area da coprire fra tre giorni, i due parametri non si combinano, ma ogni area del globo può essere monitorata costantemente, senza limitazione di confini tra nazioni o blocchi di alleanze. Negli anni 90 la difesa stipulò un contratto quadro con il gestore francese del satellite spot, con una risoluzione di 10 metri in pan cromatico, cioè in scala di grigi, e 20 metri in multispettrale, cioè a colori, che furono utilizzate, tra gli altri scopi, per la redazione di cartografia speditiva in scala 1 a 50.000, la spaziocarta o carta satellitare. Sulla base dell'immagine, che veniva corretta ed orto-rettificata, si disegnavano alcuni elementi tipici del prodotto cartografico, dal reticolato alle curve di livello e così via. Per aiutare l'utilizzo da parte degli utenti, che erano abituati al disegno grafico tradizionale di una carta e che ora si trovavano davanti un'immagine satellitare in toni di grigio, la SAC avviò il corso di fotolettura, che insegnava i fondamenti dell'interpretazione di immagini. Contestualmente, per addestrare invece i fotointerpreti più completi, avviò anche il corso FOIS, Fotointerprete Operativo di Immagini Satellitari, che affiancava il fotointerprete operativo di immagini convenzionali. E, a parte il satellite, tornando anche alla ricognizione tattica dei nostri giorni, troviamo per l'appunto il sistema POD Recchi Light. È il POD digitale che viene utilizzato oggi. Contiene camere digitali nella banda del visibile e dell'infrarosso. È in grado di riprendere il territorio in modo automatico. Il pilota è stato finalmente liberato dal vincolo di guardare nel mirino per fotografare i target. I sistemi di navigazione e di computer di bordo permettono al POD di sapere, in ogni istante, dove si trova lui stesso e dove si trova il target. E quindi può orientare il puntamento dei sensori in modo automatico. Anche il vincolo di aspettare il rientro del velivolo e lo sviluppo della pellicola è ormai un ricordo. Le immagini nel momento in cui vengono riprese possono essere scaricate a terra attraverso un link radio e quindi possono essere analizzate finché il velivolo è ancora in volo. Qui vediamo, in questa immagine pittorica, diverse modalità di ripresa del POD. Si possono avere riprese di target puntuali ad altissima risoluzione. Si possono coprire aree più vaste e mosecarle. Si possono seguire dei percorsi lineari e ovviamente si può scegliere la modalità monoscopica o stereoscopica. Nelle prossime due slide vediamo degli esempi, più che altro per far vedere il livello di risoluzione del sensore. Ovviamente dipenderà dalla quota di volo, ma in condizioni operative possiamo dire che si raggiungono veramente degli ottimi, degli eccellenti risultati di risoluzione. Qui vediamo nel piccolo riquadro azzurro l'elettroottico nel campo del visibile e nel riquadro rosso il pezzettino di area che vi si sovrappone ripresa in infrarosso. E qui abbiamo un altro esempio di immagine. A sinistra il campo abbracciato più vasto e a destra il particolare ripreso con il dettaglio. E passiamo agli aeromobili a pilotaggio remoto. Nella dizione anglosassone i droni da sorveglianza vengono chiamati UAV, Unmanned Aerial Vehicle, che nella dizione italiana non viene tradotto esattamente così. La traduzione non è letterale perché sarebbe velivoli senza pilota. Non piace questa dizione perché il pilota c'è, è in una posizione remota appunto, ma ripeto c'è ed ha il pieno controllo del mezzo, anche se non è a bordo. I vantaggi operativi di questo tipo di piattaforme sono indiscutibili, consentono di sorvolare e riprendere aree sotto il controllo dell'avversario, rischiando in questo caso solo il mezzo. I Predator sono equipaggiati con un piccolo pod di forma sferica, affettuosamente chiamata alla palla dai tecnici e dagli analisti, contenente sensori elettroottici nel campo del visibile ed infrarossi che non riprendono fotografie statiche, ma riprendono immagini in movimento, si chiama appunto questa tecnica motion imagery, in pratica filmati invece di fotografie. I filmati vengono trasmessi via radio a terra e visionati real time da un analista che svolge un impiego particolare, che è quello della sorveglianza. Il sistema piattaforma, in grado di sorvolare un'area per molto tempo e di stazionarci sopra, e un sensore che riprende filmati in modo continuo invece di singole immagini, introduce il concetto di permanenza sul target e monitoraggio continuato nel tempo. Viene prestata una particolare attenzione all'insegnamento di questa disciplina alla SAC durante i corsi che verranno descritti in seguito quando parleremo delle attività che oggi svolge la Scuola di Aerocooperazione. E passiamo alle piattaforme satellitari, ma soprattutto alla tecnologia radar utilizzata per l'acquisizione di immagini. Nel 2007 è stato messo in orbita il primo dei quattro satelliti che costituiscono la costellazione Cosmos SkyMed. Mi preme dire che è un progetto ed una tecnologia completamente italiani, in dual use tra l'Agenzia Spaziale italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa. Cosmos SkyMed si basa su una costellazione di quattro satelliti identici dotati di radar ad apertura sintetica, l'abbreviativo, l'acronimo è SAR, che lavorano in banda X. Questa banda permette di vedere attraverso le nuvole e, come tutte le immagini radar, in assenza di luce solare. Il sistema è in grado di effettuare fino a 1800 immagini radar della superficie terrestre al giorno. Grazie alla tecnologia radar, baste aree del globo, caratterizzate da copertura nuvolosa per gran parte dell'anno, possono ora essere monitorate costantemente. L'alta produttività di immagini è dovuta al fatto che le riprese non sono vincolate alla presenza dell'illuminazione solare. Nel radar ad apertura sintetica l'energia elettromagnetica che illumina il territorio è prodotta dalla stessa antenna che ne riceve poi gli echi di ritorno. Ecco, qui chiaramente vediamo una comparazione fra un'immagine elettroottica nella banda del visibile, ripresa a sinistra con copertura nuvolosa, e immagine SAR, che invece non è assolutamente affetta da questo problema. Vediamo anche che la copertura nuvolosa è molto leggera, giusto per far capire che si tratta della stessa area, ma ci sono casi, e chi ha lavorato nel campo del telerievamento lo sa, in cui la copertura nuvolosa non permette assolutamente la visione di quello che c'è sotto. Oltre a questo indubbio vantaggio, il tipo di energia impiegato dalla tecnologia SAR e le innovative applicazioni che la caratterizzano permettono lo sfruttamento di informazioni impossibili da tirare fuori nelle immagini acquisite nella classica banda del visibile. Dal punto di vista delle applicazioni civili, il SAR si presta particolarmente al monitoraggio geologico, all'osservazione continua nel tempo di una determinata area a rischio di giorno e di notte. Viene facilitata anche la valutazione dei danni, nel caso per esempio di frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche. Il SAR permette di ottenere informazioni in maniera continua e precisa sullo stato delle coste, dei mari e delle acque interne, al fine di valutare fenomeni di erosione costiera, di inquinamento. Il sistema rappresenta inoltre un valido aiuto per il controllo del traffico marittimo. Dal punto di vista geotopografico una delle applicazioni più diffuse è l'estrazione di modelli matematici del terreno, quindi la conoscenza dell'altimetria in modo automatico attraverso questa immagine. Comunque alcune applicazioni saranno meglio descritte più avanti quando tratteremo dei corsi per analista di immagini radar che attualmente vengono svolti dalla scuola di aerocooperazione. Ecco, qui vediamo un'immagine radar di una base navale militare. Vediamo in questo primo ingrandimento i vari pontili moli di ormeggio e qui in un ulteriore ingrandimento si può riconoscere la sagoma di una porta aerei. Altra parentesi che dobbiamo fare purtroppo ancora per un terremoto è stata quella del 2009 all'Aquila. Il comando corsi telerilevamento della SAC è stato incaricato di compiere un'analisi dei danni infrastrutturali intervenuti nelle aree colpite. Di tale analisi effettuata sia su aerofotografie riprese dall'aeronautica militare sia su quelle fornite da ditte attraverso la protezione civile è stato redatto un progetto GIS, Geographic Information System, che ne ha favorito la successiva consultazione e la gestione dell'informazione da parte degli utenti soprattutto per l'appunto la protezione civile. Può sembrare strano ma uno dei compiti immediati è stata proprio l'analisi della tendopoli che era in fase di allestimento nella caserma della guardia di finanza di Coppito, una località appena fuori il centro abitato dell'Aquila. Tale analisi è stata utilissima per l'ottimizzazione della disposizione delle tende e per la realizzazione appunto della tendopoli che fu fatta come vediamo soprattutto nel campo sportivo della caserma. E passiamo ora al telerilevamento nella scuola di aerocooperazione oggi. La scuola di aerocooperazione oggi? Beh innanzitutto cominciamo col dire che nel 2017 al fine di soddisfare al meglio le esigenze della difesa e degli altri customers, degli altri clienti, la SAC ha implementato un sistema di gestione qualità in tutto conforme all'ISO 9001 certificato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Subito dopo nel 2018, a valle di un lungo e impegnativo processo durato un paio d'anni, la scuola ha ricevuto la certificazione per l'accreditamento come scuola della Nato. Praticamente la scuola è riconosciuta dalla Nato in grado di somministrare corsi secondo gli standard dell'alleanza. È l'unico ente della difesa italiana ad avere questa certificazione. Entriamo nel vivo del comando corsi telerilevamento che è organizzato su cinque sezioni, una sezione corsi basici, una sezione corsi per analisti militari, una sezione corsi geospatial, geotopografici, una sezione corsi radar e una sezione studi e applicazioni. Ognuna di queste sezioni si occupa prevalentemente di un gruppo dei numerosi corsi che vengono offerti nel settore del telerilevamento. Eviterò di andare a descrivere tutti i singoli nomi e tutte le singole sigle che contraddistinguono i corsi, preferisco invece raggrupparli per aree e parlare di iter formativi. Quindi iniziamo giustamente dall'iter formativo basico che tra gli argomenti che vengono illustrati ai frequentatori troviamo principi del telerilevamento, parliamo di energia elettromagnetica, visto che è questa poi che compone l'immagine, come questa energia viene suddivisa all'interno delle varie bande dello spettro elettromagnetico, le firme spettrali, gli effetti atmosferici, la formazione delle immagini, la descrizione delle caratteristiche di piattaforme e dei relativi sensori utilizzati. Quindi cartografia per estrarre informazioni dalla rappresentazione cartografica del territorio in entrambi i formati analogici e digitali. Tecniche di interpretazione delle immagini, si inizia a fare fotointerpretazione. Utilizzo di software, beh è importantissimo questo, tra l'altro ci tengo sin da subito a specificare che ogni frequentatore ha la sua postazione collegata in rete su cui può utilizzare software e lavorare le immagini. Trattamento radiometrico ed enhancement per andare a spulciare il contenuto informativo di ogni singolo pixel. Il trattamento geometrico delle immagini. E si inizia a fare riconoscimento ed analisi del terreno, di siti industriali e di vie di comunicazione. Passiamo quindi all'iter operativo avanzato. Gli argomenti trattati in questo corso sono la produzione di report di analisi che devono essere realizzati sia in accordo agli standard della Nato, sia sulla base dell'efficacia delle tecniche di comunicazione. Quindi si passa all'analisi di tutti gli obiettivi civili e militari che pure sono elencati nelle direttive della Nato e che devono essere intesi sia come sedimi, quindi caserme, porti, aeroporti e quant'altro, sia come sistemi d'arma che sono presenti su di essi o comunque possono essere individuati sul territorio, che sono mezzi terrestri, quindi artiglierie, carri da combattimento, velivoli di tutti i tipi, in questo caso anche sia militari e civili, così come per le unità navali. Quindi particolare attenzione, come già detto qualche slide fa, viene riportata sull'analisi dei video ripresi dai droni per la sorveglianza. Si conducono delle esercitazioni in accordo e con la collaborazione di enti operativi, di reparti operativi e infine al termine del corso si svolgono delle visite didattiche presso dei sedimi militari ed industriali. Qui vediamo un esempio, solo un esempio, di una pagina del report di analisi che viene redatto, in questo caso abbiamo come obiettivo un aeroporto militare e vediamo in questa pagina particolare il posizionamento e la descrizione di tutte le installazioni che vengono utilizzate per l'arresto dei velivoli. Mentre qui abbiamo una panoramica di fotografie scattate durante una delle ultime visite didattiche, qui siamo nella zona di Taranto e come si può vedere vengono visitate diverse installazioni militari e civili. Qual è lo scopo? Il scopo è che i frequentatori prendono parte a questa visita didattica per prendere contatto dal vivo, toccare con mano le installazioni e i sistemi d'arma. Le stesse installazioni, i stessi sistemi d'arma che hanno studiato e che hanno imparato a riconoscere, a catalogare dalle immagini telerilevate in aula. La visita ha sempre un notevole impatto sui frequentatori, che spesso manifestano sorpresa nel trovarsi di fronte a forme e dimensioni dei target reali. In più c'è un valore aggiunto, i nostri frequentatori, come tutto il personale d'altronde che opera all'interno della SAC, sono interforze, vengono dall'esercito, dalla marina, dall'aeronautica, carabinieri e per ognuno di loro. È un valore aggiunto andare a vedere la vita operativa che si svolge nella forza armata del collega. È qualcosa che poi rimane come esperienza umana, oltre che tecnica. Quindi parliamo dell'iter geotopografico, ormai chiamiamo con l'accezione più moderna, anche secondo i criteri standard NATO, di geospaziale, tradotto in italiano. Prevede l'insegnamento, sempre accompagnato da esercizi pratici svolti dai frequentatori sotto la supervisione dei docenti, dell'intero processo aerofotogrammetrico, dall'aerotriangolazione alla restituzione vettoriale, all'estrazione di modelli matematici per l'altimetria del terreno. Si affronta il complesso tema della classificazione delle immagini digitali. La classificazione è una sorta di individuazione automatica di aree omogenee per materiale di composizione. Il tutto avviene attraverso algoritmi automatici o semi-automatici. Nocciolo centrale del corso è la trattazione del GIS, ormai l'abbiamo citato più volte, il Geographic Information System, che possiamo brevemente definire, e mi perdonino i puristi della materia, come un insieme di dati georeferenziati, composti da una parte grafica, che è il disegno, da una parte descrittiva, le caratteristiche di ogni singolo elemento del disegno, che sono gli attributi, quella che io definisco la carta d'identità di ogni singolo elemento, e le logiche spaziali che regolano l'interdipendenza degli oggetti fra loro, la cosiddetta topologia. Il tutto è organizzato all'interno di un database relazionale, che permette prima il popolamento, l'aggiornamento, ma soprattutto l'interrogazione dei dati da parte degli utenti, ed è in grado di fornire risposte univoche e semplici ad interrogazioni anche complesse. Gli argomenti che vengono trattati, per l'appunto, sono quelli della fotogrammetria, l'estrazione di modelli matematici del terreno, la classificazione delle immagini, il Geographic Information System e la redazione di prodotti speditivi ad uso operativo. Uno degli esercizi prodotti nel tempo nel leader geotopografico è quello dell'aerotriangolazione del blocco aerofotogrammetrico che copre l'area archeologica di Villa Triana, presso Tivoli. Successivamente il frequentatore procede alla restituzione vettoriale, all'estrazione del modello matematico del terreno e all'inserimento dei dati ottenuti in un ambiente GIS. E quindi passiamo al corso per analisti di immagini radar. Il corso rappresenta uno dei fiori all'occhiello della SAC nell'ambito del telerilevamento, in questo momento è uno dei più ambiti, soprattutto, ne parleremo poi nella versione straniera e soprattutto in ambito NATO. Viene somministrato successivamente a valle dell'acquisizione della qualifica di analista dati immagini. L'analista infatti viene condotto all'approccio che è completamente nuovo per lui delle immagini radar, che presentano caratteristiche completamente diverse da quelle elettroottiche o infrarosse. Gli argomenti che si trattano sono i fondamenti della formazione delle immagini radar, le caratteristiche dei sistemi radar imaging, con particolare riferimento a Cosmo SkyMed, appunto la costellazione italiana di satelliti, le tecniche di processamento delle immagini, le tecniche di analisi di immagini radar e multisensore. Di questi argomenti, vista la particolarità del corso, mi soffermerò con due o tre slide per spiegarli più da vicino. Innanzitutto i fondamenti della formazione delle immagini radar. Si torna a parlare per l'appunto di fondamenti, ma stavolta sono dedicati al funzionamento del radar imaging e della formazione della relativa immagine. Si prende confidenza del differente impatto visivo. La stessa geometria di acquisizione, che è forzatamente laterale proprio per come è costituito il sistema, si basa su una serie di impulsi emessi dal sensore, che colpiscono il terreno e tornano al sensore con una geometria di ripresa, che non ha nulla a che fare con quella della formazione dell'immagine raster classica nell'elettroottico, che sia il campo del visibile o che sia il campo dell'infrarosso. Si notano quindi i diversi effetti derivanti dall'uso di lunghezze d'onda diverse, le diverse bande radar. Si vede, per esempio, l'utilizzo e lo sfruttamento delle diverse polarizzazioni, che sono un po' la disposizione delle onde che costituiscono il segnale, che trasportano il segnale. Si insegnano quindi le tecniche di processamento, per esempio quelle per abbattere degli effetti spiacevoli presenti all'origine nelle immagini, uno fra tutti il cosiddetto fenomeno dello speckle, che proprio per le caratteristiche degli impulsi radar danno all'immagine un effetto che viene detto sale e pepe, è una sorta di granulosità in cui i singoli puntini, i pixel che costituiscono l'immagine, vengono ad essere non in modo naturale alternati in bianco e nero. Il frequentatore impara ad eliminare questo effetto attraverso l'uso di applicativi su software dall'alto profilo ingegneristico. E ci tengo a dire che questi corsi contengono un forte profilo matematico e ingegneristico, tutto condotto con software specifici e con esercizi sempre sotto la supervisione dei nostri docenti. E qui arriviamo a un'applicazione molto cara agli analisti e molto sviluppata soprattutto nel radar, che è la change detection, ovvero l'analisi multitemporale dei cambiamenti che avvengono nei diversi periodi in cui vengono riprese le immagini. Abbiamo due tipologie, una è quella di ampiezza, senza andare troppo nello specifico, diciamo semplicemente immagini semplici, per così dire ancorché radar, messe a confronto in cui si possono per l'appunto notare i cambiamenti. Mentre una particolare applicazione di cui vediamo una slide, ho voluto mettere proprio le slide che utilizziamo nei nostri corsi, vediamo nella slide di destra, è quella della coerenza, la coherence change detection. Praticamente avviene attraverso il confronto, sviluppato da algoritmi di calcolo differenziale, quindi anche una cosa molto complessa, delle mutazioni che il segnale radar ha riprendendo due immagini in sequenza temporale successiva. Grazie a questa applicazione è possibile andare a monitorare spostamenti millimetrici di oggetti nel tempo, quindi è possibile monitorare attività umana, ma anche movimenti geologici e, perché no, monitorare cedimenti strutturali di piccole o grandi opere. Tutte cose che sarebbero invisibili all'occhio umano non solo da un'immagine classica delle rilevata, ma anche stando direttamente sul posto. Quindi veramente un'applicazione molto 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 importante. Niente, ampiezza e fase sono due valori dell'energia radar che si riferiscono allo stesso pixel e che per essere memorizzate, pensiamo, addirittura necessitano della matematica dei numeri complessi, numeri complessi che sono composti da una parte reale, una parte immaginaria. Le attività di Change Detection vengono poi visualizzate attraverso la tecnologia della visualizzazione a monitor che è quella dei tre colori RGB, Red, Green e Blue e sostanzialmente c'è tutta una letteratura scientifica che parla di come utilizzare questi tre colori per fare combinazione di bande e avere quindi dei risultati facilmente interpretabili. Ancora, la geometria delle immagini. La geometria del terreno e degli oggetti ripresi è uno degli aspetti che maggiormente differenzia l'immagine radar da quella elettroottica. Ci sono grandissime deformazioni. Qui nell'immagine di destra vediamo una ripresa radar che è in toni di grigio del Vesuvio che presenta una dislocazione visibile, una dislocazione, uno spostamento di circa 3 km rispetto alla posizione corretta che è indicata dal modello matematico del terreno che qui vediamo a colori. Le deformazioni del terreno sono corregibili ed il frequentatore impara ad utilizzare i complessi processi di orto-rettifica dedicati alle immagini radar. Per quanto riguarda invece la deformazione presente negli oggetti, che non può essere corretta, viene assimilata a livello di conoscenza dai frequentatori che ne fanno tesoro per la successiva corretta analisi appunto dei target. E qui vediamo esempi di una disciplina molto approfondita nel corso radar che è quella dell'analisi attraverso il confronto fra le immagini ottiche e le immagini radar. La fusione dei dati fra queste due tipologie di immagini è efficacissima, amplifica ed esalta le capacità di rappresentazione di entrambe le tipologie di immagini. In questi esempi c'è l'analisi operativa di un'installazione navale. A sinistra e in basso vediamo la diversa dislocazione nel tempo delle unità ormeggiate. In alto vediamo le differenze infrastrutturali che sono intervenute nei puntili di ormeggio e in basso a destra diamo delle chiavi di lettura dei segnali radar di hangar e della zona aero navale. Ripeto, questi sono esempi che fanno capire la potenzialità e l'importanza della fusione fra immagini ottiche e immagini radar. L'intero ITER, l'intera filiera per acquisire la capacità di analista di immagini viene offerta anche in versione inglese per i paesi della Nato. I corsi sono inseriti in un catalogo che viene definito ETOC, Education and Training Opportunities Catalog, e nel corso di questi ultimi anni abbiamo avuto diversi frequentatori stranieri. Parliamo un pochino di infrastrutture, ormai ci stiamo avvicinando alla fine di questa spero non troppo lunga presentazione. La SAC è dotata di sei aule di cui cinque multimediali che possono ospitare un massimo di 152 studenti e una di queste aule è in procinto di ottenere la certificazione per trattare corsi di natura classificata. In più c'è un simulatore che viene utilizzato soprattutto dalla parte aerocooperazione. È un'intera area che riproduce dei contesti ambientali operativi e dove c'è un simulatore per l'appunto che serve all'addestramento del personale e in più c'è un laboratorio multimediale per la produzione di audiovisivi, di supporti didattici, eccetera, eccetera. Bene, spero che abbiate trovato interessante questa nostra chiacchierata. Forse è stata un po' lunga e di questo chiedo scusa. D'altronde che volete? Subentra la passione per il proprio lavoro e quindi si ha voglia di parlarne e di condividere insieme agli altri. Seguiranno un paio di slide con i ringraziamenti, però preferisco soprattutto farli di persona, mettendoci la faccia, come si suol dire. e quindi innanzitutto al generale Riccardo Rinaldi, il comandante della scuola di aerocooperazione, per avermi affidato l'incarico di esporre questa conferenza. Alla dottoressa Elizabeth Jane Shepard, direttrice dell'Aerofototeca di Stato, per avermi richiesto questa conferenza e per il materiale fornito sui corsi per archeologi fotointerpreti. Al colonnello Ovidio Ferrante, storico ed autore del libro L'Aerocooperazione, storia dalle origini ad oggi, da cui ho tratto diversi spunti. Ed infine al paricorso tenente colonnello Luigi Guerriero per il supporto fornito soprattutto in fase di avvio di questo lavoro. Grazie ancora. Subito dopo questo paio di slide con i saluti, mi raccomando, non andate via perché ci sarà un filmato promozionale delle attività della scuola nel telerilevamento che in qualche modo racchiude e ricapitola molto di quello che ci siamo detti, soprattutto relativamente alle attività dei nostri giorni. Grazie per l'attenzione. Arrivederci a tutti. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.